visual radio station la radio che ascolti che vedi e che tocchi buongiorno siamo oggi con geronimo fazzini docente universitario docente anche in una scuola paritaria di lecco naturalmente lo abbiamo invitato per rispondere un po quello che si sta dicendo dall'altra parte geronimo fazzini è un esponente del centro sinistra comunque sostiene mauro gattinoni e dall'altra parte cioè dal centro destra ci si è un po si è stati un po divisivi sul tema dei cattolici e dunque a lui che è cattolico lo è da sempre insomma chiediamo un po il suo parere a partire proprio dalle scuole paritarie di cui tu sei un docente caro geronimo ma a me ha fatto un po male vedere che peppino ci resa che è un amico con una persona che rispetto per molti altri aspetti continua a insistere su questo tema dei paritarie dicendo che se i gattinoni verrà votato ci scorderemo la famosa convenzione in essere allora intanto cominciamo a dire che la convenzione in essere fatta dalla giunta di centro sinistra prevede 1,4 milioni all'anno per cinque anni è una convenzione che è una convenzione che tutta l'italia ci invidia basta girare per l'italia certo non merito solo del comune merito del fatto che esiste una realtà di base storica che è quella delle paritarie in particolare in questo caso delle scuole dell'infanzia però obiettivamente il comune di Lecco ha valorizzato questa presenza e la sta valorizzando anche per il futuro dico anche un'altra cosa che perché a me piace parlare di fatti perché giustamente tu hai detto che sono docente ma fondamentalmente sono un giornalista e rimane i fatti sono che non più tardi di ieri sera in piazza Cermenati c'è stato un evento della della coalizione che sostiene Mauro Gatinoni e tra i presenti c'era per esempio una preside di una di un liceo paritario di Lecco tra gli eletti in consiglio comunale c'è l'Ele Torri che è un professore che ha lavorato anche alle scuole di Rancio è stato anche insegnante di mio figlio la colbe non ci sono pericoli per le scuole paritarie sono pericoli c'è una componente di sinistra non facciamo finta di dire che non ha la stessa visione del mondo cattolico ma se parlano i fatti a pepino ci reso interessa la concretezza anche a me i fatti sono questi è una convenzione che scritta nero su bianco dice quello che ho detto un attimo fa e ripeto pubblicamente Mauro Gatinoni in una serie di incontri alcuni dei quali ho organizzato personalmente anch'io ma anche pubblicamente l'ha ribadito in tutte le salse allora permettimi la battuta io capisco la stanchezza della campagna elettorale capisco che anche pepino ha fatto 11 dibattiti non ne vuole più fare però magari durante questi dibattiti o si è distratto un attimo o magari l'audio non andava bene però questa cosa Mauro l'ha detta chiarissima ok paritario però non è solo quello il tema se un tema più vasto definiamolo forse ideologico quello dei cattolici insomma ci resa ha detto chiaro che lui ha scelto il centrodestra perché non poteva stare con il centrosinistra cioè con quella parte politica che in passato ha sostenuto le lotte secondo me civili per il divorzio e per l'aborto e per questo tipo di diritti ma allora che le forze alcune forze di sinistra che sono presenti nella coalizione a livello nazionale non sono sostenuto in passato ma sostengano oggi questi temi è un dato di fatto nessuno lo nega qui però stiamo parlando delle elezioni comunali e nel consiglio comunale così come in giunta non si tratta di come si chiama di coppie gay non si tratta di aborto non si tratta di divorzio non si tratta di eutanasia ok quindi se siamo onesti intellettualmente questi temi non competono alla al consiglio comunale in quanto tale ci sono buoni cattolici anche a sinistra ma ci sono buoni cattolici ovunque cioè non esiste più il partito dei cattolici da mo io sono abbastanza vecchio per aver militato nella democrazia cristiana alla fine degli anni 80 ma il tema non è questo anzi io dico una cosa in più io ho scritto una lettera di 7700 battute in cui alla fine in due righe toccavo anche il tema dei cattolici ebbene ha fatto notizia solo per quelle due righe lì alla fine allora lo dico chiaro approfitto di questa ospitalità per dire che se qualcuno si è sentito offeso dalla mia lettera mi dispiace onestamente ma non era mia intenzione dividere i cattolici di serie a di serie b a un mestiere che preferisco lasciare al padre eterno che ne sa molto di più di noi anche rispetto alla mia fede che tu hai detto di solito lasciamo decidere a lui quello che è certo è che appunto persone che si ispirano alla fede cattolica ci sono di qua e di là e quindi non è vero che ci sono solo nel centro destra semplicemente perché a livello nazionale come dicevo ci sono alcuni temi sensibili ed è vero che una certa componente della sinistra appoggia cattolici ci sono di qua ci sono di là ci sono bravissime persone poco fa qui ha parlato simone brigati sono contento che sia stato eletto sono contento che sia stato eletto anche filippo boscagli per esempio mi dispiace che non sia stato eletto fabrizio arrigoni che è l'ex presidente dell'aurora quindi va bene grazie grazie gerolamo fazzini e come sempre vinca il migliore